I guai non finiscono mai e non si scopre oggi che anche le ferrovie sud-est siano un carrozzone nel quale la politica degli anni passati ha prodotto solo danni, riempiendo gli organici passati attraverso le raccomandazioni e un servizio a dir poco discutibile. E così finalmente la Regione Puglia ha deciso di mettere le carte in chiaro con l'azienda di trasporto a seguito di una situazione insostenibile che integra le condizioni per la rescissione in danno del contratto. Dunque dall'assessore regionale Giannini è partita velocemente la messa in mora attraverso una lettera indirizzata all'amministratore unico delle sud-este Luigi Fiorillo e per conoscenza al Ministero dei Trasporti. Il contratto con la sud-este disciplina impegni finalizzati a realizzare un'offerta di trasporto pubblico in termini di efficienza, decoro e puntualità nel rispetto dei diritti dell'utenza. Tre aspetti che vengono sistematicamente violati a giudicare dei numerosi esposti da parte dell'utenza nei quali si denunciano situazioni di viaggio vergognose in termini di comfort e di puntualità. Il degrado la fa da padrone soprattutto per quanto riguarda il materiale rotabile utilizzato nonostante la regione abbia sempre assicurato finanziamenti garantendo anche la retribuzione delle maestranze. Ora però Giannini ha detto basta, la situazione è diventata insostenibile, migliorate la qualità del servizio altrimenti la regione è decisa a rescindere il contratto.